Ben trovati, visto che ci occupiamo di informazione con un accento particolare sull'economia e sulla politica, mi sembra doveroso aprire questa volta ricordando la conferma all'estradizione da parte del governo inglese, estradizione negli Stati Uniti di Julian Assange. Julian Assange verrà quindi estradato negli Stati Uniti dove rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver diffuso documenti sui loro crimini di guerra. A condannarlo sarebbero gli stessi criminali di guerra da lui denunciati, visto che si straparla tanto in Occidente di libertà di espressione, di libertà di stampa, quindi stiamo con Assange senza se e senza ma. Detto questo veniamo alle tematiche di cui ci occupiamo di solito, politica economica, macroeconomia e i dati che sostanziano o che raccontano quello che è successo nell'ultima settimana. Ripartiamo da dove avevamo lasciato, cioè dalla Russia. La Russia a maggio è diventata il primo fornitore di petrolio della Cina. 8,4 milioni di tonnellate di greggio, 1,98 milioni di barili al giorno, il 55% in più rispetto a un anno fa e circa un quarto in più rispetto al mese precedente, cioè ad aprile. La Russia ha superato, diventando appunto il primo fornitore di petrolio della Cina, l'Arabia Saudita, che era fino a poco tempo fa il primo fornitore. Non solo Cina però, perché dal 27 maggio al 15 giugno l'India ha aumentato del 600% l'import di carbone dalla Russia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e del 3100% l'import di petrolio. La Russia quindi, come stiamo vedendo, non ha problemi a trovare mercati di sbocco, a reindirizzare le forniture che all'inizio era l'Europa che diceva di non volere più, adesso stiamo vedendo come sia la Russia a ridurre i propri flussi di gas e di petrolio verso l'Unione Europea. Non hanno problemi, d'altronde avevamo sempre detto che rappresentava l'export verso l'Europa per la Russia di prodotti energetici il 2%, poco più, il 2,2% del PIL russo. Poco e sostituibile, molto velocemente. Ovviamente Cina e India stanno comprando grandissime quantità a prezzi anche migliori dei nostri, in parte rivendendolo anche a noi. Questo insomma per dire quanto le sanzioni abbiano messo in ginocchio la Russia e come sia presuntuoso da parte di quelli che si definiscono i paesi liberi o la comunità internazionale non prendere in considerazione la maggior parte dei paesi che fanno per giù la metà del PIL mondiale e soprattutto tre quarti degli abitanti della Terra. Intanto, sempre rimanendo alla Russia, le riserve estere sono aumentate di 3,3 miliardi di euro nell'ultima settimana, arrivando a un totale di 594,6 miliardi. L'avanzo delle partite correnti a maggio è stato di 110 miliardi di euro, il mese prima era di 96. Abbiamo già detto che in realtà il primo trimestre di quest'anno il PIL della Russia è stato in crescita di poco più del 3% rispetto allo scorso anno e quindi come dire, purtroppo alcuni analisti che avevano presagito il fallimento a stretto giro della Russia dovranno aspettare e forse non vedranno mai realizzarsi quello che paventavano. Intanto in Italia che succede? Che i livelli di stoccaggio del gas tra gennaio e giugno, ok giugno non è finito, quindi i dati del 2022 sono al 17 giugno, sono inferiori quasi del 16%, 15,93 rispetto allo stesso periodo, quindi aprile e giugno dello scorso anno. Tenendo conto che già ad aprile e giugno dello scorso anno gli stoccaggi erano stati particolarmente bassi e cioè del 14% inferiori all'anno precedente, al 2020. Quindi la situazione non è delle più rose, si parla sempre di più di razionamenti e piano di emergenza, il che non vuol dire ovviamente che il paese sparisce e che moriremo tutti, ma si tratterebbe ovviamente di un ulteriore fattore di preoccupazione sul fronte economico che metterebbe in difficoltà tantissime aziende, in uno scenario già molto difficile. Anche perché sul fronte energetico abbiamo detto, avevamo accennato, che c'è un problema per quanto riguarda anche l'acqua. Ha piovuto pochissimo quest'anno, in Italia noi produciamo molto anche con l'idroelettrico, ovviamente l'acqua non riguarda solo la produzione di energia, ma abbiamo un grosso problema. Il problema però avviene da lontano e non è semplicemente di andamento climatico di quest'anno, cioè di un anno che può capitare con minori piogge o piogge quasi estenti. Noi abbiamo un problema di rete idrica, che non viene manutenuta come dovrebbe e infatti a livello nazionale conta perdite circa il 40%, 40% è tantissimo, è quasi la metà del flusso di acqua che ci passa per mancanza di manutenzione. Parlando di Roma, che è la realtà che conosco meglio, tenete conto che da quando si tende un indici anni fa il referendum in cui i cittadini si espressero in favore di una gestione pubblica e non privatistica dell'acqua, la CEA di Roma, che il 49% è privata e soprattutto viene gestita come un'azienda privata, cioè mettendo al primo posto non i cittadini e il servizio che gli viene offerto, ma i guadagni. Che cosa è successo alla CEA proprio da quando ci siamo espressi sul referendum per l'acqua pubblica? Beh che le perdite d'acqua sono raddoppiate solo per quanto riguarda Roma per i mancati interventi di manutenzione. Nel frattempo però le tariffe sono aumentate quasi il triplo, 2,5 volte sono aumentate le tariffe per gli utenti romani. Nel frattempo CEA ha distribuito agli azionisti privati un miliardo di euro che sarebbero dovuti andare e per vendere un servizio a prezzi migliori e soprattutto per fare manutenzione riducendo le perdite della rete idrica. Questo succede quando è un bene pubblico che però viene gestito come fosse una società privata, quindi mettendo al primo posto il profitto. C'è poi il discorso inflazione. Io mi trovo costretto per l'ennesima volta a ribadire che l'inflazione non è in questo caso assolutamente, ma quasi mai, un fenomeno strettamente monetario che dipende dall'azione delle banche centrali. Perché se c'è un aumento della domanda che fa aumentare i prezzi dipende dalle politiche del lavoro. C'è un regime di piena occupazione, i salari sono medio-alti, quindi la gente spende di più, quindi ci può essere un aumento dei prezzi. Non dipende dalle politiche da banca centrali quando è un'inflazione da domanda. Quando è un'inflazione da offerta anche vuol dire per esempio che il mercato energetico resta uguale, non è aumentata la domanda, ma diminuisce la capacità di mettere nel mercato energia elettrica da parte dei fornitori e quindi una strozzatura dal lato dell'offerta o andando fuori dal campo dell'energia sulle materie prime, la strozzatura delle catene di approvvigionamento globale con i lockdown e le chiusure degli ultimi due anni, quelli del covid, sono quelli che hanno portato all'inflazione. È da offerta? Come la risolvi un'inflazione da offerta che non ha nulla a che vedere con la moneta emessa da una banca centrale? La risolvi migliorando la produzione, cioè facendo investimenti. Cioè esattamente quello che è più difficile fare se per esempio alzi i tassi di interesse, cioè rendi il costo del denaro più caro a cittadini e imprese, che sono quelle che dovrebbero fare gli investimenti. Non ha minimamente senso aumentare i tassi di interesse. Aumentare i tassi di interesse vuol dire aggiungere inflazione e inflazione, rallentare la ripresa dell'economia e tutelare nel frattempo a scapito dei lavoratori che non hanno i salari indicizzati il capitale. C'è chi campa di rendita. Gente che non lavora, magari decine, centinaia di palazzi, appartamenti o milioni di euro, di dollari depositati in banca, non fa niente. L'inflazione è gli errori del capitale e tu alzi i tassi proteggendo loro e lo fai a scapito dell'economia reale, quindi delle imprese e dei lavoratori. Tenete conto che durante gli otto precedenti mercati ribassisti tra gli anni 80 e oggi la Fed ha sempre risposto in maniera opposta, cioè quantità vising, riduzione dei tassi. Questa è la prima volta nei tempi di Rockler che invece c'è una Fed aggressiva che alza i tassi e infatti l'America sta andando in recessione, senza diminuire l'inflazione che dipende da altre cause. È sempre impossibile un'inflazione da emissioni di moneta? No, vi faccio un esempio molto banale, ma capite che sono casi estremi. Tu hai una banca centrale completamente alle dipendenze dello Stato. Lo Stato dice ai suoi cittadini basta smettete di lavorare, vi do io un salario per non fare niente dalla mattina alla sera, quindi interrompi la produzione presente in quel paese e paghi la gente che però deve continuare a fare quello che fa prima, cioè compra merce che però non produce più, quindi la importi solamente. Ecco, in quel caso tu avresti sì una fiammata inflazionistica, ma lo scenario in cui uno Stato dice alla propria banca centrale dammi soldi che io le accredito direttamente sul conto di tutti i cittadini da lavoro per non farli lavorare, chiudo tutte le fabbriche, nessuno produce più niente, importi tutto stampando solo moneta, e beh grazie che là c'è un'inflazione forse uno dei pochissimi e unici casi in cui dipende da una questione monetaria, ma nella realtà esperita da decenni l'inflazione non è un fenomeno monetario, soprattutto quando c'è la moneta a corso forzoso fiat, cioè slegata dalla conversione in beni preziosi, tipo il gold standard per capirci. Quindi chi oggi dice che serve aumentare i tassi o non sa di cosa parla, o è in mala fede, o è confuso nella migliore delle ipotesi. Oggi i tassi devono rimanere bassi perché servono investimenti proprio per ridurre le strozzature dal lato dell'offerta e ovviamente si avrebbe un fortissimo intervento dello Stato nell'economia, soprattutto a livello industriale e nei settori strategici. Ovviamente non è quello che stiamo facendo noi, ma non è anche quello che stanno facendo in tanti. Se qualcuno ha dubbi o altro sul discorso inflazione e emissione di moneta, io sono sempre a disposizione, scrivete nei commenti, poi magari la prossima settimana vi rispondo a domande circostanziate su qualcosa che può essere stato poco chiaro rispetto a come l'ho spiegato. Abbiamo detto quindi che l'aumento dei tassi di interesse aggiungerà solo inflazione e inflazione impedendo la ripresa o rallentando la ripresa dell'economia, cioè la sopravvivenza delle aziende e del mercato del lavoro. Intanto, per rimanere in tema inflazione, nell'eurozona l'inflazione si è confermata alta, anzi è aumentata ulteriormente ed è arrivata all'8,1% su base annua, ad aprile era del 7,4%. Chiudendo il discorso sull'inflazione e l'emissione di moneta, a parte andare a vedere negli ultimi vent'anni quanta moneta hanno emesso le banche centrali con inflazione che ha avuto l'encefalogramma piatto. Non è che poi se fossero vere le teorie monetariste non arriva vent'anni dopo l'inflazione a scoppio ritardato. Non si cala giorno su giorno sul mercato reale, sulla vita reale, ma insomma non arriva a scoppio ritardato così tanto. E poi soprattutto della moneta emessa dalle varie banche centrali, nell'economia reale ci è finito quasi niente, è rimasta nel settore finanziario. L'eccesso di liquidità nel settore finanziario provoca bolle, ma non inflazione. Chiaro, infatti è quello che sta succedendo. Non toccherò il tema delle criptovalute, però diciamo che ci sono varie bolle finanziarie in giro per il mondo dovute a un'iniezione di liquidità mai vista che non è andata quasi per niente nell'economia reale. Non è andata nella produzione di beni e servizi, non è andata in lavoro e non è andata in stipendi. Quindi basta con questa storia che l'inflazione attuale è dovuta alla massiccia emissione di moneta da parte delle banche centrali degli ultimi 15 anni, perché non è così. Basterebbe anche aprire un manuale di macroeconomia, ma insomma non lo devono fare certo gli spettatori. Il problema è per esempio la deregolamentazione finanziaria che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni, quella che ha consentito appunto all'emissione di moneta da parte delle banche centrali indipendenti, ma indipendenti dai governi e dai cittadini che dovrebbero rappresentare non certo la finanza, di emettere una quantità mai vista di moneta che è rimasta nell'economia finanziaria, anziché in quella reale. La deregolamentazione finanziaria è un cancro da estirpare perché sottrae risorse all'energia reale, all'economia reale e quindi fondamentalmente cresce a scapito dei salari e del lavoro. Ultima nota per quanto riguarda i mercati della finanza, visto quello verso cui stiamo andando, a questo punto dell'anno, quindi a metà giugno circa, la SP500, Standard & Poor's 500 che è il più importante indice azionario americano, aveva fatto peggio solo in un anno da quando esiste, cioè nel 1932, quello della grande recessione, in cui era crollato nello stesso periodo dell'anno quasi del 40%, del 39,2%, adesso è il 21,6% e comunque il peggior risultato di sempre, a parte il 1932. Ci aspettano tempi duri in cui si ballerà tanto e purtroppo non sembra che siamo in mano di persone capaci di affrontare la cosa o volentieri di affrontare la cosa come andrebbe affrontata, cioè tutelando le imprese e i lavoratori.